Bene amici, riprendiamo le sane vecchie abitudini, è venerdì, unboxing, il primo del 2022, ancora i pacchi scarseggiano, ma ragazzi, i prossimi giorni, le prossime settimane saranno ricchissime di eventi, di appuntamenti, ma cosa c'è qua dentro? Partiamo subito molto bene, non so, una tavoletta di cioccolato, un po' di caramelle e un libro, oh si autogrill Alessa Poliandri di Mondragone, ma c'è un bigliettino? Carissimo Andrea, io e il mio compagno Stefano seguiamo sempre il tuo canale, abbiamo grande stima di te, grazie, questo è il mio secondo libro, in bocca al lupo, non leggerò, vi stavo dicendo, grazie davvero, che ci saranno tante cose nelle prossime settimane, si parte già con, finalmente, Find N, tra pochissimo, poi arriva l'S22, prime settimane di febbraio, si vocifera che sia 7, 9, 11 l'unpack, quindi tra pochissimo, e poi, no, è successa una cosa, vabbè, non so se dovrò oscurare il video fino a qua, vabbè, niente, come non detto, cosa c'è in questo, oh no, grazie, grandissimo, Andrea di Touch Lab mi aveva anticipato che me l'avrebbe spedito, grazie mille, questi sono interessanti, guardate qua, occhiali in realtà virtuale, ma anche un po' aumentata, perché, vabbè, dentro ci sono due display ad alta risoluzione, audio spaziale, stereo, eccetera, eccetera, di Vive, i Flow, se non sbaglio, si chiamino, e hanno due telecamere, questo permette di andare a riprodurre all'interno dell'occhiale anche la realtà, anche quello che ci circonda, quindi andare a, diciamo, mettere un layer sopra l'altro, quindi andare a usare non solo la realtà virtuale, ma anche quella aumentata, grazie, grazie Andrea che me li hai spediti da provare, sono molto, molto curioso, vediamo qua, tra l'altro tutti i pacchi, dei quali praticamente non conosco il contenuto, tutti i pacchi a sorpresa, e tra l'altro l'altra sorpresa arriverà da un altro brand orientale, ma ve lo dico, ma sì, ve lo dico, Huawei, già, ci sono tanti rumor, che presenterà dei prodotti molto interessanti in questa prima parte del 2022, e questo succederà, penso, già a metà gennaio, quindi già settimana prossima, dicevo che si ripartirà alla grandissima, ma no cioccolatini, cioè, siamo due a uno, eh, due cose da mangiare, una tecnologica, ciao Andrea, sono Zac, il ragazzo di Bruxelles, ci siamo beccati a City Live durante l'evento di Realme, ah, sì, sì, alla grande, grazie Zac, mi ricordo benissimo di te, e veramente di cuore, grazie, grazie di cuore, apro questo, che so non essere cibo, tadaaa, gaming laptop, un 16 pollici con dentro processore Ryzen D, AMD, Omen DHP, voi sapete, io non sono un gamer, ma i PC da gaming hanno tanto senso anche nell'ambito, sia architettura, 3D, rendering, eccetera, eccetera, ma anche nell'ambito del montaggio video, e forse i processori Ryzen non li ho mai approfonditi tantissimo dal punto di vista prestazioni, e penso che questo sia il PC che mi darà questa occasione, che bello il logo di Omen, design squadratoso, sicuramente avrà la tastiera Super Tamarra RGB, molto molto bene, molto molto bene, molto molto bene, molto molto bene, tra l'altro il refresh rate di 165 Hz, ne deduco che avrà un super display per giocare, tra l'altro, eh sì, è super scarico, vabbè, quindi lo proverò presto, ma anzi prestissimo, perché ho poca tecnologia da provare, tra l'altro in questo periodo è strano come io abbia da provare più robot aspirapolvere rispetto a smartphone, ma si sa, i primi di gennaio, sempre così, non è che ci sono mai tantissime, tantissime uscite, ripeto, ma stanno arrivando, ne stanno arrivando tantissime, tra l'altro, altra novità, il 18 di gennaio, con quella cosa che non vi potevo far, vabbè, niente, ho già parlato troppo. Cosa c'è qua sopra? Valtellina! Altro cibo! Quindi ragazzi, siamo tre pacchi di cibo, due pacchi di tecnologia, da Luca Nori e il team di Geno Eco. Cioè, Andrea mi chiamo, sono l'amministratore di una start-up di Parma, totalmente under 30, mi piace questa cosa, start-up giovani, che si chiama Seven Studio Unicom. Ti mando questo pacchetto perché sennò va a farti vedere alcune realtà che sosteniamo. Ma chi è che parla? È Omen? Sta parlando? Sta parlando? È Cortana? Cortana, stai zitta, ti ho chiuso! Ma poi non avevi, non avevi batteria, ma avevi scritto. Vabbè, 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 l'ho zittita. Comunque, crema artigianale di castagne e un po' di composte, tanta roba. Il biglietto dice molto, quando la casalinga di Voghera è 1.0, ma sostenibile. Tra l'altro sta arrivando il video con il confronto tra i vari robot aspirapolvere, anzi, i migliori robot aspirapolvere usciti fino a quest'anno. E poi me ne è già arrivato uno che è quasi meglio, ma vabbè, vabbè, la borsa della spesa sarà sostenibile. Però mi sa che questa qua, Chiara, fa così, cioè me la tira un po' in testa. Comunque, ragazzi, veramente grazie, una borraccia per il pensiero. E niente, mi aspettano settimane durissime con tantissimi prodotti in prova, quindi mi prendo un po' a questo periodo che è un po' di tranquillità, e con calma vado a giocare con l'Omen. Ah no, attenzione, potrei fare una combo, Omen più Vive. Ciao, buon weekend. Ma attenzione perché mettendo a posto mi rendo conto che questa non è una borraccia, ma un'idea veramente interessante e sostenibile perché è uno sgrassatore, tra l'altro qua c'è scritto che è biodegradabile, efficiente, eccetera, eccetera, questo lo proverò, ma la cosa che mi piace è che dentro c'è la confezione, c'è lo spruzzatore, quello per spruzzare lo sgrassatore, ma ci sono i refill, e diciamo che la parte attiva, quindi il detersivo, è in queste confezioni, cioè, genialata, bisogna mettere questa confezione qua dentro, poi riempire con l'acqua e utilizzare. Le volte successive basta comprare questa piccola scatoletta e confezione, quindi A si trasporta una roba piccola e leggera e non acqua, sostanzialmente perché gli altri detersivi sono fatti di, sì, ok, principio attivo, ma poi anche di acqua, non si butta via la confezione, si riusa, si ricicla, si comprano solo queste cosettine qua, mi sembra un'ottima idea, sui panni spugna in cellulosa, 100% biodegradabile, no plastic, vi farò sapere come funzionano, però, bene, mi piace come iniziativa e idea, speriamo che prenda piede, ciao, devono essere un po' più sostenibili ragazzi, dobbiamo volere bene al nostro mondo. Grazie a tutti.